Esordio soft per i saldi invernali, è cominciata oggi la caccia alle offerte per ora senza ressa nei negozi del centro dove i commercianti sperano in una boccata di ossigeno le telecamere di tv tra i bolognesi alle prese con lo shopping scontato. È diventato anche un caso giudiziario il vecchione con il volto di Berlusconi bruciato a Ozzano Emilia la notte di San Silvestro. L'esposto presentato dal PDL oggi è arrivato alla procura che ha aperto un fascicolo per ora senza indagati. Gravi incidenti in stazione, una ragazza di 25 anni è stata urtata da un frecciarossa mentre tentava di attraversare i binari per non usare il sottopassaggio. È in prognosi riservata all'ospedale Maggiore. Passava dalla nostra città un maxitraffico di farmaci anabolizzanti venduti su internet e diretti agli Stati Uniti smantellato dai carabinieri del NAS di Bologna in manette due sloveni che gestivano un giro da 40 milioni di euro. Non userà la classica scopa ma per risparmiare sul carburante andrà in giro con un calesse AITG Carla Stolfi, storica befana della Casa dei Risvegli, protagonista di una serie di appuntamenti fra gioco e solidarietà domani e sabato a Bologna. Le azioni di AITG sono cominciati oggi, lo avete sentito dai titoli, i saldi in tutta l'Emilia Romagna, un appuntamento molto atteso soprattutto dai commercianti e soprattutto dopo il calo dei consumi che si è registrato anche per quanto riguarda gli acquisti natalizi. Le associazioni del commercio sono moderatamente ottimiste per questi saldi mentre quelle dei consumatori prevedono un flop. Adesso chiaramente i bilanci si faranno solamente tra qualche settimana. Intanto oggi le telecamere di ETV sono andate a curiosare fuori dai negozi del centro proprio per tastare il polso dei bolognesi alle prese con lo shopping scontato. Un inizio che è sembrato abbastanza soft e senza ressa nei negozi. E' nato per noi Massimo Ricci, sentiamo allora quali dichiarazioni ha raccolto proprio dai cittadini bolognesi. Vi posso chiedere se siete in giro per saldi, cosa avete intenzione di comprare, state guardando le vetrine? Stiamo cercando un regalo e non è rimasto più niente da comprare perché è passato Natale e non riusciamo a trovare un regalo di compleanno. Ma adesso per i saldi secondo voi trovate qualcosa? No, stiamo facendo molta fatica. Abbiamo altri giri oggi. Però pensate di andare a fare acquisti in saldo? Sì, mi giorni probabilmente sì. Io sono un 52 bastonato dalla manovra che mi costa a conti fatti 50.000 euro per cui sono ancora sconvolto e quindi non si parla né di acquisti normale né di saldi. L'interessante si sarebbe però non abbiamo bisogno di niente perché ormai abbiamo tutto per cui saldi o non saldi... La gente non l'ha acquistato perché ha tanta roba. Per capriccio, per capriccio. Siete andati in giro per saldi? Sì. Abbiamo trovato due che hanno comprato, com'è andata? Bene. Basta. Ci sono degli affari in giro. Cosa avete preso? Un po' di tutto, maglie, scarpe, quello che trovavamo l'avevamo acquistato. Quanto avete speso in tutto in generale? Eh, quasi 300 euro già. Siete nella media secondo... Sì, sì, tutto bene, tutto nella norma. Avete guardato un po' di vetrine? Sì, abbiamo guardato un po' le vetrine di Armani e di Barberi. Non le avete comprato niente però? No, no, perché è ancora un po' troppo alto il prezzo. Stiamo in giro così, sì. Non vi interessa la stagione dei saldi, non pensate di fare acquisti? Sì, però Bologna, Bologna, altre città, Milano. Cioè Bologna non... Sì, alcune volte con le amiche però. Ho comprato... no, in effetti ho comprato una giacca. L'hai trovato bene, ho speso bene? Sì, metà prezzo. No. Ma non avete intenzione di comprare? No, penso di no. Come mai? I soldi sono finiti per tutti? Mi sa di sì. Come sapete il capodanno Zano dell'Emilia alle porte di Bologna è stato un capodanno un po' turbolento, se così possiamo dire. Turbolento nel senso di polemico. Infatti è arrivato questa mattina la Procura della Repubblica di Bologna all'esposto presentato dai consiglieri del PDL di Ozzano sul rogo del vecchione col volto e la bandana di Silvio Berlusconi. Chi ha fatto denuncia ha allegato una fotografia del vecchione prima che venisse bendato e poi bruciato e chiede all'autorità giudiziaria di fare accertamenti sulla vicenda che, come ricorderete, ha suscitato parecchie polemiche all'indomani della notte di San Silvestro. A quanto pare viene ipotizzato il reato di istigazione alla violenza. La Procura dovrebbe aprire un fascicolo conoscitivo per ora senza ipotizzare reati né tantomeno indagati. E siamo alla cronaca con un grave incidente accaduto ieri sera in stazione a Bologna. Una giovane donna è stata urtata da un treno mentre cercava di attraversare i binari. Si è pensato inizialmente a un tentativo di suicidio, invece la polfera ha ricostruito che si è trattato di una disgrazia. Federico Balletti. E' ancora in prognosi riservata all'ospedale Maggiore. La donna di 25 anni, originaria di Torino, rimasta gravemente ferita ieri sera in stazione a Bologna dopo essere stata urtata dal Frecciarossa, Milano-Roma, che transitava senza fermarsi. Secondo gli accertamenti della Polfer, si è trattato senza dubbio di un incidente e non di un tentativo di suicidio. La ragazza avrebbe cercato di attraversare i binari in una zona non troppo centrale della stazione, verso il piazzale Est, per evitare di usare il sottopassaggio. All'ultimo momento si è accorta dell'arrivo del treno, ha cercato di indietreggiare, ma il Frecciarossa l'ha colpita di schiaffo, sbalzandola violentemente a terra. Soccorsa dal 118 è stata portata in gravissime condizioni al Maggiore, dove tuttora ricoverata in sala rianimazione. A quanto si è appreso la 25enne, alle spalle qualche guaio con la giustizia, ed è conosciuta gli agenti della Polfer di Bologna, perché sebbene abbia un domicilio in città, è solita passare molto tempo in stazione. I macchinisti del convoglio che l'ha urtata non si sono accorti di nulla e il treno ha così proseguito regolarmente la sua corsa. Dopo l'incidente, per consentire soccorsi e rilievi, il traffico ferroviario sulla linea ha subito alcuni ritardi piuttosto limitati, visto l'orario serale. Un vasto traffico illegale di farmaci anabolizzanti e sostanze steroidi che venivano venduti su internet è stato smantellato dai carabinieri del NAS di Bologna, al termine di una indagine fatta in collaborazione con le polizie di mezza Europa e degli Stati Uniti. In manette sono finiti due cittadini sloveni, ritenuti vertici della distribuzione illecita dei farmaci, oltre che di un'attività di riciclaggio di denaro. I due sono stati catturati in Austria con richiesta di estradizione dal Dipartimento di Giustizia americano. Il principale mercato erano infatti gli Stati Uniti. L'intera indagine è stata comunque coordinata dal NAS e dalla Procura di Bologna. Il giro d'affari negli ultimi otto anni di attività illegale è stato stimato in circa 40 milioni di euro. Cambiamo argomento. In almeno cinque scuole bolognese quest'anno non c'è stata alcuna iniziativa per ricordare il Natale. E a denunciarlo è l'onorevole Fabio Garagnani del PDL, che ha anche preparato una risoluzione da portare proprio in Parlamento. Andiamo a vedere. Nella maggior parte delle scuole bolognesi il Natale non viene ricordato. Prevale la mentalità laicista. Lo denuncia il deputato bolognese del Popolo della Libertà Fabio Garagnani, che ha effettuato un mini-sondaggio in alcuni istituti della città. Nelle scuole Tambroni, Longhena, Federzoni, Acri e Manzolini il Natale non è stato ricordato in alcun modo, spiega Garagnani, dimenticando colpevolmente la nostra identità e tradizione culturale. In fin dei conti il Natale segna per tutti l'inizio dell'era cristiana e del conteggio degli anni. Il deputato cita anche altri episodi di deriva ideologica riscontrati nelle scuole bolognesi. Per questo ha preparato un intervento in Parlamento. Ho fatto riferimento e faccio riferimento in questa risoluzione che presenterò in Commissione con l'inizio dell'anno, che è una risoluzione cumulativa, nel senso che riassume tutti i fatti che hanno caratterizzato la vita della scuola bolognese nell'ultimo anno, ma particolarmente negli ultimi sei mesi, intanto alle occupazioni illegali che si sono registrate e condizionamenti ideologici che hanno vincolato, hanno bloccato le elezioni, molto spesso vincolato gli insegnanti che non erano d'accordo o i genitori a scioperare contro il governo. In secondo luogo ho chiamato in causa la responsabilità di alcuni dirigenti scolastici e in particolare ho riproposto, direi ho presentato ben quattro interperanze al riguardo, il caso della insegnante Vai delle scuole bombici, soprattutto per quanto riguarda l'insegnamento della storia contemporanea, un po' in tutte le realtà d'Italia, ma in particolare nei licei di Bologna. Molto spesso certi fatti spiacevoli all'ideologia di sinistra, alla cultura di sinistra, vengono taciuti. E oggi il coordinatore cittadino del PDL, Fabio Garagnani, è intervenuto anche sulla ipotesi della cittadinanza onoraria da conferire a Anna Maria Cancellieri, ex commissario straordinario e attuale ministro dell'interno. Garagnani boccia l'ipotesi definendola un mero tentativo di captazio benevolenze. La proposta dell'amministrazione felsinea, osserva, mi vede nettamente contrario. La Cancellieri prosegue e ha svolto il suo compito in maniera lineare, facendo il suo dovere, ma niente di più. Queste dunque le parole di Fabio Garagnani. Allora, adesso passiamo ai giorni di festa, proprio questi giorni di festa, quelli dedicati in particolare alla Befana, giorni molto importanti soprattutto per i più piccoli. Noi, ospite nel nostro telegiornale, abbiamo avuto una signora molto importante, la Befana della Casa dei Risvegli, ovvero sia Carla Astolfi, che impersona questo personaggio già da tantissimi anni e ci ha raccontato le iniziative previste per questa epifania. Sentiamola. Beh, domani innanzitutto ci troveremo presso un circolo dove c'è l'appuntamento con il nostro mezzo di trasporto, che è la Somarina Bianchina, perché quest'anno abbiamo pensato alla Somarina Bianchina, con la quale abbiamo già lavorato, e così mi risparmio la scopa, che è così meno inquinante, capito, perché questa va a gasolio, benzina, va a tutti gli accidenti possibili. E con i rincari della benzina, ovviamente. Eh, esatto, invece la Somarina è un po' di mangiare, lì così ce la caviamo. E poi è una cosa graziosa, che penso che per i bambini sia molto più bellina che un'altra cosa. Intanto, la interrompo perché questa mattina, come dicevamo, è già cominciata, il giro della Befana è già cominciato, con una visita alla Casa dei Risvegli. Alla Casa dei Risvegli. Stiamo vedendo proprio le immagini. Abbiamo portato ai degenti e ai malati un bel pensierino, un pensierino che può permettersi la Befana, ovviamente, e diciamo che abbiamo fatto avere un sorriso a queste persone, purtroppo più sfortunate di noi, e la Befana cerca di fare del suo meglio. E dopo faremo, diciamo, questo giretto per la piazza, poi andremo sotto le due torri. Adesso esattamente, non so se siamo davanti o di dietro, perché è tutto incartato un'altra volta. Si scoprirà direttamente domani. Esatto, le due torri sono ancora lì. Sono ancora lì. Quindi questo sarà il nostro punto di riferimento e cercheremo di fare felici i bambini che verranno a trovarci, che poi ci saranno delle sorprese, degli spettacoli con altre persone, e la Befana distribuirà quei pochi doni che potrà fare, perché dopo tanti anni, insomma, comincio ad essere un po' stanco, un po' vecchia. E noi stiamo cercando una nuova Befana, ma non vuole troppo giovane, perché devi imparare tante cose, ci vuole del tempo. Quindi è vero a questa voce che ci sarà una sorta di selezione per trovare una nuova Befana? Ma questo qui è buttato lì, adesso non so come verrà fuori, perché bisogna fare una grande selezione, perché per una Befana ci vuole una grande esperienza. Io ce l'ho perché ho 8 mila anni, quindi ormai mi sono fatta le ossa. La Befana adesso pian piano va nel suo buco, nascosta, va a preparare le ultime cose per domani, e con i bimbi ci vediamo domani, e con i grandi lo stesso si verranno. E domani, festa dell'Epifania, il centro di Bologna sarà percorso dal corteo dei Magi, che passando per via indipendenza arriveranno in Piazza Maggiore, dove sarà accolto dal cardinale, l'arcivescovo Carlo Caffarra. La festa sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente, da Radio Nettuno, a partire dalle 14.30. In piazza ci saranno anche i panificatori, che faranno assaggiare le loro prelibatezze, tutto per uno scopo benefico. Questa mattina, ospite della nostra rassegna stampa, c'era proprio il presidente dell'Associazione dei Panificatori, Francesco Mafaro, sentiamo. Noi saremo 50 panificatori presenti nell'arco della giornata, dalle 9 alle 18. e per l'occasione faremo la raviola tipica bolognese, la raviola bolognese con la mostarda bolognese, che è una marmellata di mele cotogna, un po' asprina, la classica raviola bolognese. Quindi dove sarete ubicati in particolare? Proprio di fronte a San Petronio. Quindi tra la zona di Via dei Pignattari e Via d'Azegno, in una di quelle stradine lì? No, no, proprio sul Crescentone. Sul Crescentone, proprio all'entrata di Via dei Pignattari. All'entrata di Via dei Pignattari, ho capito. Quindi non potete non vederli, insomma, i panificatori. Lo sforzo che metterete in campo domani? Lo sforzo? Ci saranno 50 addetti. Abbiamo preparato da fare 4-5 quintali di raviole. Speriamo che il tempo e la gente... Non le regaliamo, perché come associazione le regaliamo, però cerchiamo di raccogliere dei fondi per la mensa del povero di San Petronio. Quindi diciamo che è offerta... Sì, c'è un'offerta minima libera, c'è un'offerta minima, un euro a raviola, faremo delle confezioni da 5 ravioli a 5 euro, ma non sono in vendita. Servono per una raccolta fondi per gente che ha bisogno. Quei soldi, quindi, le chiedo di ricordarlo, vanno alla mensa... La mensa del povero di San Petronio, che è in via della Colombina, è una strada tra via dei Pignattari e via d'Azeglio. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla festa dell'Epifania. Arriva la pubblicità, ma restate con noi, perché a rientro parliamo di calcio, ma anche di spettacolo. Di nuovo in studio con ETG. Prima di proseguire andiamo a rivedere i titoli principali di oggi. esordio soft per i saldi invernali. È cominciata la caccia alle offerte, per ora senza ressa nei negozi del centro, dove i commercianti sperano in una boccata di ossigeno. Le telecamere di ETV sono andate tra i bolognesi alle prese, con lo shopping scontato. È diventato anche un caso giudiziario. Il vecchione con il volto di Berlusconi, bruciata a Ozzan Emilia la notte di San Silvestro. L'esposto presentato dal PDL è oggi arrivato alla procura, che ha aperto un fascicolo, per ora, senza indagati. Gravi incidenti in stazione. Una ragazza di 25 anni è stata urtata da un frecciarossa mentre tentava di attraversare i binari per non usare il sottopassaggio. È in proniosi riservata all'ospedale Maggiore. Passava dalla nostra città un maxitraffico di farmaci anabolizzanti venduti su internet e diretti agli Stati Uniti, smantellato dai carabinieri del NAS di Bologna. Imanette due sloveni, che gestivano un giro da 40 milioni di euro. Non userà la classica scopa, ma per risparmiare sul carburante andrà in giro con un calesse. AETG, Carla Stolfi, storica beffana della Casa dei Risvegli, protagonista di una serie di appuntamenti fra giochi e solidarietà domani e sabato a Bologna. Riprendiamo il nostro telegiornale per parlare di un'allerta meteo che arriva dalla protezione civile, in particolare uno stato di attenzione di 30 ore su tutta l'Emilia Romagna, dalle 19 di oggi fino alle 7 di sabato per forte vento che dalle prime ore di domani si rafforzerà sia in pianura con raffiche da nord di 60-70 km orari sia sui rilievi dove potranno superare anche i 100 km orari. Adesso passiamo al calcio perché il Bologna torna in campo dopo la pausa natalizia e dovrà vedersela con il Catania. Noi ne abbiamo parlato con Marco Divaio. Sentiamo. Appiniamo bene, adesso stiamo preparando la partita. Certo, rientrare dopo la sosta così lunga non è sempre semplice. Comunque andiamo in ritiro anche per questo perché il ministro ha voglia di rimettere la testa nella partita e di concentrarci e capire come bisogna affrontare questa gara che è complicata e che per noi è fondamentale. Cerchiamo di provare al meglio sicuramente. Forse ci sarà un cambio modulo? Il ministro sta provando, questa situazione l'ha provata anche oggi. Adesso la stiamo provando quasi tutti i giorni. È un'alternativa importante per noi. Abbiamo giocatori per farla. Abbiamo fiducia da tutto questo punto di vista. Il ministro sta dando tutti i giorni indicazioni per come affrontare le varie problematiche durante la gara che si possono creare. Siamo preparati. Arriva Alice nel Paese delle Meraviglie al Teatro Europa Auditorium. Domani si tratta di un musical sempre molto apprezzato da grandi e piccini e tra l'altro nel ruolo del cappellaio matto ci sarà un comico molto apprezzato dal pubblico ovvero sia Buzz. Andiamo a vedere. Arriva un musical Alice nel Paese delle Meraviglie il 6 gennaio al Teatro Europa Auditorium di Bologna. Il family show all'insegna dello spettacolo il giorno dell'Epifania. Nulla di più adatto per le famiglie. Un musical con tutti i crismi di una grande produzione quindi grandi scenografie e costumi coloratissimi all'insegna di una storia che ha fatto sognare grandi e piccini. Alice che ci condurrà ovviamente nel suo mondo fantastico attraverso una trasposizione teatrale fatta veramente molto bene con l'utilizzo anche di effetti speciali sorprendenti e che ci farà conoscere appunto tutti i personaggi dalla regina di cuori al bianconiglio fino ad arrivare al cappellaio matto interpretato per la gioia dei più piccoli da un artista molto famoso da un comico molto famoso che è Buzz. Sembra anche molto adatto al ruolo. Sì assolutamente è molto molto bravo e poi dopo si esprimerà ovviamente in un altro con un altro modo insomma oltre ovviamente al personaggio che l'ha reso famoso appunto di Buzz. In Alice nel Paese delle Meraviglie ci sarà appunto questo salto spazio temporale molto frequente quindi ci saranno anche cambi repentini di scenografia. Sì perché l'idea appunto è quella di dare la velocità come sfogliare la pagina di un libro. Ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria. Di nuovo con ETG c'è solamente il tempo per andare a rivedere i titoli principali di oggi esordio soft, decisamente soft per i saldi invernali è cominciata la caccia alle offerte per ora senza res nei negozi del centro dove i commercianti sperano in una boccata di ossigeno le telecamere di ETV tra i bolognesi e le prese con lo shopping scontato. È diventato anche un caso giudiziario il vecchione con il volto di Berlusconi bruciato a Zanemiglia la notte di San Silvestro l'esposto presentato dal PDL oggi è arrivato alla procura che ha aperto un fascicolo per ora senza indagati. Grave incidente in stazione una ragazza di 25 anni è stata urtata da un freccia rossa mentre tentava di attraversare i binari per non usare il sottopassaggio è in prognosi riservata all'ospedale Maggiore. Passava dalla nostra città un maxitraffico di farmaci anabolizzanti venduti su internet e diretti agli Stati Uniti smantellato dai carabinieri del NAS di Bologna in manette due sloveni che gestivano un giro da 40 milioni di euro. Non userà la classica scopa ma per risparmiare sul carburante andrà in giro con un calesse a ETG Carla Stolfi storica Befana della Casa dei Risvegli protagonista di una serie di appuntamenti fra gioco e solidarietà domani e sabato a Bologna. E con questi appuntamenti per l'Epifania si chiude il nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata.